Toni caldi uniti a un design contemporaneo per questa nuova realizzazione di rifra in una villa sul Lago Maggiore in Canton Ticino, Svizzera. La cucina scelta dai nostri clienti è il modello One di rifra, composta da un'isola centrostanza e una parete colonne retrostante all'isola stessa. La finitura dell'isola One, contraddistinta dai suoi caratteristici tagli a 45 gradi, è in laccato bianco opaco, unita ad un bancone snack in rovere. Sull'isola sono presenti sia i piani cottura con cappa d'aspirazione a filo top che i lavelli, mentre sul bancone snack sono stati inseriti gli outlet per le prese elettriche. La finitura della parete colonne è una combinazione tra laccatura opaca ed il legno di rovere. Nelle colonne sono stati inseriti i forni e il frigorifero con congelatore, mentre la parte a sinistra è dotata di ante con apertura libro, le quali nascondono una zona bar con top estraibile. I tre bagni della residenza sono stati arredati con tre diverse collezioni rifra. Il bagno principale è arredato con mobili della collezione Zero, con maniglia integrata nell'anta, piano tigles in Corian con lavabi integrati nel piano e specchi retroilluminati a LED. Questo bagno è caratterizzato dalla presenza della collezione Fly, con ante superiori del mobile sagomate a 45 gradi e top sagomato a 30 gradi, per creare una gola volutamente extra size. Il bagno degli ospiti è invece arredato con la composizione della collezione K1, che ha le stesse proporzioni dell'isola della cucina, con un lavabo d'appoggio Bowl in Corian e specchio retroilluminato a LED. Il foro che si vede sul top è stato creato per consentire agli ospiti di inserire l'asciugamano, che va a finire in un apposito contenitore dopo l'uso. Il progetto è stato creato, prodotto, consegnato ed installato direttamente da Rifra Milano, tramite la filiale svizzera Rifra S.A. Clicca sul link, scopri di più su Rifra e scarica i nostri cataloghi ed il libro delle realizzazioni. Rifra, kitchens and beds, direct from Milano.